Per quelli che... ah, se le mattine cominciassero più tardi. Quelli che... il mattino ha l'oro in bocca. Per quelli che al mattino l'aria fresca tiene la mente sveglia e lesta. Per quelli che al mattino c'è da fare e alla sera da pensare. Per quelli che il buongiorno si vede dal mattino. Per tutti voi il mattino di Padre Pio TV è Just Today. Da lunedì al sabato dalle 8.15 alle 10. Just Today con Paola Russo e Leonardo Fania da lunedì 8 gennaio.